Buongiorno, ben trovati appuntamento di mattino 6 di giovedì 17 marzo, apriamo con il Santo del Giorno, si tratta di San Patrizio Vescovo, che viene ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. San Patrizio Apostolo del Vangelo fra il popolo irlandese nacque nella scosia da agiati epigenitori verso la fine del secolo V, la Divina Providenza che nei suoi arcani disegni sempre infinitamente sapienti destinava a Patrizio grandi cose nella Chiesa Cattolica dispose che egli, ancora giovane, strappato dal grembo della famiglia, fosse condotto schiavo nell'Irlanda durante questa schiavitù in cui il povero giovanetto ebbe a sentire tutta l'amarezza dell'abbandono e subire il disprezzo più avvilente ed inumano, la grazia del Signore plasmò il cuore del suo servo e lo predispose alla sua sublime missione. Finalmente, dopo dieci anni di sofferenze inenarrabili, poté tornare in famiglia. Patrizio, per prepararsi alla Divina Missione che da Dio gli era stata assegnata, si diede agli studi e all'esercizio delle virtù sacerdotali. Fu ordinato diacono sacerdote e prima di partire per l'evangelizzazione dell'Irlanda fu consacrato vescovo. L'opera di Patrizio fu completa, non solo convertì e battezzò tante e tante anime, ma molti giovani ricevettero gli ordini sacri, molte chiese furono innalzate, molti giovani si consacrarono al Signore nella vita religiosa. Tra le virtù che particolarmente spiccarono nel Santo Ammirabile fu il suo distacco dalle cose di questo mondo, delle tante offerte che i fedeli deponevano ai suoi piedi. Nulla mai prese per sé, ma tutto dispensava ai poverelli. Verso la fine della sua vita, scrisse la confessione, libro in cui narra i principali avvenimenti della sua vita. San Patrizio Vescovo, che viene dunque ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Noi apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine del Quotidiano Il Centro. Partiamo dall'edizione di Pescara del Quotidiano d'Abruzzo. Ecco la pagina principale, la prima pagina, che vede il titolo a tutta pagina, che riguarda un fatto di cronaca. Prestiti truffa, 142 imprenditori. In cassa 330 mila euro, ma i fondi non arrivano, arrestata. E poi la fotonotizia di centropagina, che riguarda l'avvertenza Brioni, in 700 manifestano a Roma, sotto il Mise Ministero dello Sviluppo Economico. Le cronache, in ospedale furto d'identità per saltare la fila denunciato, Montesilvano Viadda slitta il trasloco della scuola. E poi Francavilla, pronti i fondi per il collettore della riviera. E poi un altro fatto di cronaca, che arriva da Pescara, giù dal balcone dopo il furto, Pescara, ladro preso dopo l'allarme di un vicino. L'altro è riuscito invece a fuggire. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara. Andiamo a vedere l'edizione del quotidiano d'Abruzzo, di Chieti, Lanciano Vasto. Poi come ogni mattina, come sempre, vedremo anche le edizioni di Teramo e di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. Vediamo l'edizione di Chieti, del centro d'Aita, la confessione dell'indagato, giornalista ucciso. Ecco l'interrogatorio del 24enne Teatino, sotto accusa d'Aita, morto due giorni fa all'ospedale di Pescara, dopo tante sofferenze, dopo un anno di ricovero in vari ospedali. Purtroppo non ce l'ha fatta. E poi la cronaca, ancora, Carabiniere e cittadini, riconoscete i vostri gioielli rubati, Lanciano trovati in casa di un arrestato. E dunque, se qualcuno dovesse riconoscere qualche oggetto, potrà rivolgersi ai carabinieri con la denuncia e dunque recuperare il mal tolto. Poi la cronaca, ancora da vasto in questo caso, preso il basista della rapina al multipiano. Poi cocaina in auto, il giudice pochi quattro anni allo spacciatore. E poi il comune ci ripensa, sport tartassato, maxisconto per le società. Passiamo a Chieti e poi Orsogna, Frana, dieci case a rischio, la paura delle famiglie. La Regione annuncia aiuti. Lasciamo l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro. Andiamo a vedere insieme l'edizione di Teramo. E poi, come detto, chiuderemo con quella di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. In questo caso, per quanto concerne l'edizione di Teramo del centro, il titolo principale riguarda il Teramo Basket, che è stato dichiarato fallito dal Tribunale. Il giudice accoglie infatti l'istanza di Equitalia, che deve avere 2 milioni di euro. E poi lauree a ritmo di rock, con le note di Filippo Graziani, a Scienze della Comunicazione all'Università Teramo. E poi la cronaca, comunque le notizie che riguardano sempre Teramo e Provincia. Il caso gli offrono lavoro, ma deve rifiutarlo. Giulianova estorsione e usura in due a processo. E poi Roseto, in arrivo 1.500 posti auto in centro. E poi un titolo che riguarda il calcio. Giulianova calcio allo sbando, saltano gli allenamenti, gli stipendi non saranno pagati. Dunque ancora crisi per il sodalizio giallorosso, ricordiamo, ultimo in classifica nel campionato di serie di Girone F. Noi torniamo alle prime pagine del centro con l'ultima edizione, quella di L'Aquila, Vezzano e Sulmona. Il titolo in questo caso riguarda il post-terremoto, i paesi ricostruiti in nove anni. L'Aquila, l'ufficio speciale, dice entro il 2025, chiuderanno tutti i cantieri. E poi con il Superstore Oasi arrivano 40 nuovi posti di lavoro. Ieri l'apertura, vedete questa foto. Poi Carsoli, il commosso ultimo saluto a Luciano Lauri, Sulmona, con la giunta salta, il festival del folklore, l'Avezzano, la Micron, le memorie del futuro. E poi un titolo che riguarda la cronaca, Giù dal bus in autostrada, l'Aquila, viaggiatori al gelo per mezz'ora, disagi e proteste. Lasciamo dunque le prime pagine del quotidiano, il centro. Tra qualche istante andremo a vedere, anzi lo facciamo subito, grazie al sito del Ministero degli Interni, i titoli e dunque le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, lo faremo tra qualche secondo. Quotidiano Corriere della Sera, Meloni in campo, da Roma a Torino si rompe l'alleanza, parliamo ovviamente di politica, dell'ennesima rottura nel centro-destra, scende Giorgia Meloni e dunque si rompe l'alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. E poi vedete la foto, saltano Kasich, soltanto Kasich può fermare la corsa di Trump, vedete l'esponente repubblicano in corsa per diventare nuovo presidente degli Stati Uniti. I conservatori puntano sull'uomo dell'Ohio e dunque su Kasich che potrebbe fermare, come si legge in questo titolo, la corsa di Trump. E poi un titolo che riguarda lo sport, il sogno Juve, svanisce ai supplementari, i bianconeri avanti per 2-0, raggiunti al 91esimo da un gol di Müller e dunque tempi supplementari, poi vittoria dei tedeschi per 4-2. Lasciamo il Corriere, siamo al quotidiano La Repubblica, anche in questo caso Meloni in campo, sfida a Berlusconi, io mamma Roma, si parla ovviamente delle elezioni nella capitale, della rottura proprio in atto nel centro-destra. E poi Libia, al sì si avverte l'Italia, missione con troppi rischi, il presidente egiziano dice manca un exit strategy, ricordatevi, della Somalia. E poi Bayer-Newventus, notte di gol ed emozioni, bianconeri beffati ai supplementari. 4-2 il risultato finale per i tedeschi che dunque vanno avanti, finisce invece l'avventura europea con molto rammarico per la Juventus. Siamo proprio alla stampa di Torino, l'assalto di Salvini al centro-destra, effetto domino dopo lo strappo di Roma, la Lega correrà da sola anche a Torino. Vedete ovviamente sul quotidiano torinese la stampa, non poteva che esserci in prima pagina un richiamo sulla Juventus che sfiora l'impresa. Poi la Beffa, vedete Bonucci, altri giocatori bianconeri che vanno a salutare i tifosi al termine della partita. Poi migranti, impronte anche con la forza, risposta alle critiche dell'Europa, frenata sugli aiuti alla Turchia. Siamo al sole 24 ore, quotidiano economico, via libera, la Superborsa, l'Europa sfida Wall Street, balzo dei titoli dei due listini, faro sulle contromosse americane e poi più in basso la Federal Reserve congela i tassi, ripresa incerta, dice il sole 24 ore. Siamo al quotidiano, il messaggero, sfida a destra, stoppa Berlusconi, Roma Meloni candidata, nessun uomo dica cosa fare a una donna, strappo anche a Torino, il patto con la Lega scatena il Cavaliere, tutti ex fascisti, Salvini dice, nasce un nuovo centro-destra. Poi vedete quest'altro titolo, migranti, impronte anche con la forza, stretta italiana sulle identificazioni, ancora attenzioni tra Unione Europea e Turchia. E poi il servizio civile nell'Unione Europea, giovani arruolati per aiutare i profughi, progetto italiano formalizzato a Bruxelles, bando per 250 candidati che percepiranno, prenderanno uno stipendio di 900 euro al mese. Siamo al giornale, Lega e Fratelli d'Italia, gli sfascisti, così vengono definiti dal quotidiano il giornale, la Meloni rompe l'alleanza nella capitale, Salvini si sfila anche a Torino, Berlusconi dice, farò campagna elettorale a Roma, dunque centrodestra nel caos. E poi questo titolo che riguarda l'arte, la mostra di Sgarbi, come trovare un capolavoro persino in un mercatino. E poi un titolo che riguarda la lotta al terrorismo internazionale, minaccia elevatissima, volevano colpire ancora Parigi, arrestati quattro terroristi. Proseguiamo con Libero, le stupidiarie del centrodestra con la candidatura della Meloni, forse di Tosi, dopo Bertolaso, Marchini e Storace, si completa il suicidio romano. È chiaro che l'unica cosa che conta non è vincere, ma far fuori. Berlusconi dice in questo articolo, in questo corsivo, il direttore di Libero, Maurizio Belpietro. E poi l'Inps, certifica il fallimento del Job Act, funzionavano solo gli sgravi, finita la droga di Stato, crollano le assunzioni. E poi vedete, Bruxelles, ventremolle dell'Europa, attentato islamico sventato a Parigi, mentre il Belgio annega nel ridicolo. Siamo al quotidiano Il Foglio, vedete che tratta in maniera particolare temi politici, le inevitabili mutazioni genetiche dei partiti nell'epoca dei Trump, Sanders, Le Pen, Salvini, Grillo, chiacchierata con Giuliano Amato. Vedete questo articolo in alto che dunque attraverso un'intervista con l'ex Presidente del Consiglio parla di questi personaggi politici che stanno raccogliendo consensi in diversi paesi dell'Europa. e siamo al quotidiano Il Tempo di Roma, l'eliti di marzo, centrodestra a pezzi e gara a far fuori Berlusconi, la Meloni all'attacco, Salvini rompe anche a Torino, Bertolaso resiste e spunta l'idea, Marchini, anti-Giorgia. Vedete questa foto, con in versione antica Roma, Berlusconi, Salvini e la Meloni. Vedete Salvini che in questa foto sembra voler accoltellare alle spalle Silvio Berlusconi. E poi ci sono due interviste, parla Gianfranco Fini, l'ex leader di Alleanza Nazionale che dice Giorgia che delusione Silvio è più coerente. Poi parla Bertolaso non mi sento tradito ma non mi ritirerò mai. Andiamo avanti, il mattino di Napoli, Comuni, centrodestra in Frantumi, Meloni si candida a Roma, Lega e Forza Italia rompono l'alleanza anche a Torino. E dunque ci sono problemi nel centrodestra. Qualche altro titolo di spalla, vedete questo forum del mattino così al sud l'università sta morendo. E poi il blitz anti-assenteismo, i furbi del beige di gruppo che sfidano la telecamera. E poi ciclismo, il giro truccato dalla camorra, Pantani, il super testimone ignorato per 16 anni. Andiamo ancora avanti, siamo al quotidiano L'Avvenire, quotidiano della CEI. Unione Europea al bivio migranti, Francesco, il Papa, Papa Bergoglio dice i governanti aprano cuore e frontiere. Mattarella in Etiopia se ospitano qui i profughi. E poi vedete, meno diseguali ci fa più felici. Questa foto con questo titolo. E poi riforma, primi sì, sulle BCC, nuovi limiti all'uscita. Andiamo ancora avanti, siamo al quotidiano L'Unità, un titolo simile a quello del tempo, Leidi di marzo, non bastava le manno, Meloni si candida al sindaco di Roma e fa fuori il Cavaliere, Casaleggio e Grillo uccidono Metiup e partecipazione ed è gestione privata del Movimento 5 Stelle. Poi migranti, nei primi due mesi del 2016, 456 annegati nel Mediterraneo. Vedete questa foto di questo bambino che sfugge, sembra fuggire ad un pericolo in un campo profughi. Andiamo ancora avanti, siamo al quotidiano Il Manifesto. Giobbati, si parla di lavoro, in questo caso crollo del 39% delle assunzioni a tempo indeterminato e aumento vertiginoso dei voucher e la realtà lavorativa sempre più precaria rivelata dall'Inps a un anno. dal Giobact e che mette a nudo la bolla renziana. Poletti, Ministro del Lavoro, dice il calo dei contratti prevedibile ma il saldo è positivo. Le critiche dei sindacati e dal Manifesto siamo al fatto quotidiano. Senza più incentivi il Giobact già si sgonfia. Abbiamo visto titoli simili in altri quotidiani. Poi chi danneggia e deruba lo Stato si tiene due terzi della rifurtiva. Il grande flop Corte dei Conti dice 646 milioni di sanzioni se ne recuperano solo 213. E poi il titolo inevitabile che riguarda la politica Berlusconi vuole Bertolaso per perdere pensando a Mediaset e a Bollorè. Andiamo ancora avanti l'ultimo quotidiano si tratta della Sicilia la mossa di Renzi abbasserò le tasse anche con il deficit e poi scongiurata la chiusura per Pasqua musei aperti fino ad aprile. Restano però i disagi e noi chiudiamo con il sito del Ministero degli Interni. Abbiamo visto i titoli dei principali quotidiani del nostro Paese attraverso proprio il sito del Ministero degli Interni prima di aprire la pagina del Meteo lo faremo tra qualche istante andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani sportivi del nostro Paese partiamo dalla Gazzetta dello Sport ovviamente tutti i titoli sono incentrati sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League così è crudele scrive la Gazzetta dello Sport la beffa di Monaco bianconeri raggiunti sul 2 a 2 al novantunesimo e battuti 4 a 2 una grande Juve sfiora l'impresa e si infuria con l'arbitro 2 a 0 e gol valido negato però il Bayern vince ai supplementari una serata sfortunata per la Juventus vedete i vari servizi sulla Gazzetta dello Sport proprio su questa sfortunata esibizione in terra tedesca della Juventus dalla Gazzetta dello Sport dal Corriere dello Sport Juve furiosa bianconeri raggiunti al novantesimo annullato a Morata un gol regolarissimo Graziato Chimic era da espulsione ma rotta duro il calcio italiano non è tutelato e poi vedete in basso qualche altro titolo che riguarda dallo Sport Europa League Pioli lancia la Lazio vinciamo la Coppa poi rottura insanabile Totti e la Roma divorzio sicuro va a Leicaster questo è il punto di domanda l'interrogativo del Corriere dello Sport Leicaster allenato dal romano Doc Ranieri e poi oggi il risponso medico Igain si ferma guai alla caviglia Napoli in ansia e chiudiamo con Tutto Sport quotidiano di Torino non è giusto questo è il titolo principale proprio sull'eliminazione della Juventus vedete quest'immagine emblematica proprio della delusione in casa bianconera per questa eliminazione dalla Champions League allora prima di parlare di meteo abbiamo un paio di minuti per andare a vedere i primi titoli che riguardano la nostra regione dal quotidiano il centro per vedere appunto di cosa si parla sulle pagine della nostra regione dedicate alla nostra regione lo vedremo tra qualche secondo proprio in questa prima pagina della cronaca d'Abruzzo del centro per salvare Pescara ci allagano i campi si parla del progetto regionale anti alluvione gli imprenditori hanno il piano B più alberi e meno gabbie si legge in questo articolo e poi Enrica la nipote di Marsinello commuove Bruxelles giovane mamma abruzzese racconta attraverso un progetto cross mediale la storia della famiglia coinvolta nella tragedia e poi andiamo ancora avanti e siamo già arrivati alle pagine di Pescara allora vediamo anche le pagine di cronaca d'Abruzzo del messaggero e poi come detto apriremo la cronaca che riguarda invece il meteo con il nostro Giovanni De Palma per andare ad ascoltare appunto quali sono le previsioni del tempo per le prossime ore i prossimi giorni è tornato il maltempo nella nostra regione dunque andremo ad ascoltare proprio dal nostro meteorologo qual è la situazione anche in vista del weekend prima pagina del messaggero d'Abruzzo Bussi il disastro continua ecco qui il titolo principale la bomba ecologica il nuovo report sconfortante alla vigilia della gara da 38 milioni per la bonifica il forum rivela i dati ARTA inviati al ministero i valori delle sostanze cancerogene fuori controllo e noi proprio su questa vicenda abbiamo un servizio che è stato realizzato dal nostro Alfredo Primante che andiamo a vedere insieme la mega discarica dei veleni tossici di Bussi sul Tirino continua ad inquinare quanto emergerebbe nella relazione di ARTA Abruzzo dello scorso febbraio inviata al ministero dell'ambiente alla direzione rifiuti a quella servizi pubblici della regione Abruzzo a Ispra e Solvè attuale proprietaria dell'area industriale la relazione resa pubblica dal forum dell'acqua riporta dati di campionatura delle acque di falda superficiale e profonda con prelievi eseguiti tra l'ottobre e il dicembre del 2015 nelle discariche 2A e 2B situate a monto e dell'impianto industriale nell'area della fabbrica ancora in funzione e nella discarica Tremonti a fianco al fiume Pescara le acque a valle della discarica 2B sono risultate essere le più contaminate tra i vari settori dice la relazione nelle discariche 2A e 2B per il tetracloroetilene si tratta di dati 160 volte superiori ai limiti di legge così come l'esacloroetano 114 volte oltre i limiti nello stabilimento industriale a valle della barriera idraulica e nei pozzi spia il clorulo di vinile un potente cancerogeno arriva a 10 volte oltre il limite di legge e nella falda profonda a 40 volte il limite di rilievo anche i dati relativi ai prelievi sulla Tremonti che è stata protetta con una palancatura per evitare percolamenti di cloroetilene 4.500 volte oltre la soglia ed esacloroetano 149 volte più del limite consentito infine la relazione dell'ARTA raccomanda attività di messa in sicurezza e misure di prevenzione nel minor tempo possibile questo è il servizio sul questione bus noi parliamo di meteo lo facciamo immediatamente con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori ti ho fatto attendere qualche secondo per farti concentrare meglio proprio su quelle che sono le previsioni per i prossimi giorni per le prossime ore dacci qualche buona notizia ma vedendo il cielo questa mattina non credo che ce ne siano molte di buone notizie eh sì Paolo nessun problema per l'attesa ci mancherebbe il tempo invece continua ad essere caratterizzato da diffuse condizioni di instabilità perché stavolta le regioni centro-meridionali soffrono un po' della presenza di masse d'aria instabile che stanno dando luogo a degli annuolamenti a dei temporali sulle regioni ioniche sul medio-basso versante adriatico ieri c'è stato un temporale piuttosto intenso soprattutto nel Vastese e la situazione non cambierà di molto nelle prossime ore perché la nostra regione continuerà ad essere interessata da annuolamenti diffusi più compatti sul settore centro-orientale con delle precipitazioni che localmente potrebbero essere anche di moderata intensità occasionalmente anche a carattere temporalesco ci saranno delle nevicate sui rilievi al di sopra dei 1000-1100 metri localmente a quote lievemente inferiori la stessa situazione continuerà a riproporsi nella mattinata di venerdì perché la nostra regione continuerà ad essere esposta da un flusso di correnti orientali quindi di conseguenza ancora annuolamenti più frequenti e compatti sul versante orientale qualche scherita in più sia oggi che domani l'avremo soprattutto sulla Marsica ma comunque ancora instabilità diffusa quindi almeno fino al pomeriggio di domani tempo cielo chiuso con annuolamenti associati ai locali precipitazioni occasionalmente anche a carattere temporalesco le temperature resteranno stazionari o lievemente in diminuzione soprattutto nei valori massimi ma poi c'è anche una buona notizia da dare riguardo alla tendenza prevista da domani sera soprattutto e nel corso del fine settimana quando un promotore di alta pressione dovrebbe garantire un deciso miglioramento del tempo sulla nostra penisola e sulla nostra regione poi non ci saranno sostanziali variazioni almeno fino alla giornata di martedì successivamente poi sembra prendere piede l'ipotesi di un nuovo peggioramento ma di questa situazione per quel che riguarda la prossima settimana ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi giorni Paolo Giovanni come si suol dire nel segno della tradizione perché a Pasqua che io ricordi non c'è stato quasi mai bel tempo ma si diciamo che solitamente è così capita spesso poi diciamo ci sono anche i detti popolari Natale al sole Pasqua con il tizzone però questo è un detto popolare che dovrà trovare conferma nei prossimi giorni perché al momento non si può dire che tempo fa al di là dei 4-6 giorni ecco come tendenza generale di queste cose ne parliamo diffusamente nei nostri aggiornamenti ne riparleremo ovviamente nei prossimi giorni tuttavia insomma si capita spesso di avere un tempo non proprio all'altezza ma ne riparleremo con calma nei prossimi giorni Paolo grazie grazie a Giovanni De Palma Giovanni buona giornata buon lavoro appuntamento a domani grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i tre spettatori di TV6 ringraziamo il nostro Giovanni De Palma e vi ricordo gli strumenti che potete utilizzare proprio per restare sempre aggiornati sul meteo parliamo del sito www.abruzzometeo.org con aggiornamenti proprio in tempo reale sull'evoluzione del tempo nella nostra regione poi c'è anche la pagina Facebook del nostro meteorologo che potete utilizzare anche per interagire con Giovanni De Palma e essere sempre informati sul tempo che sarà noi torniamo ai nostri quotidiani torniamo al centro iniziamo a vedere qualche titolo dalla cronaca di Pescara le prime due pagine riguardano un'operazione della guardia di finanza falsi prestiti truffati 142 imprenditori arrestata consulente finanziaria in cassa 330 mila euro di parcelle promettendo 300 milioni di fondi ma i soldi non arrivano e dunque noi su questa vicenda andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato avrebbe proposto prestiti per oltre 300 milioni di euro provenienti da fantomatici fondi esteri truffando 142 clienti le fiamme gialle del nucleo della polizia tributaria di Pescara coordinate dal PM della procura di Pescara Barbara Del Bono hanno posto agli arresti domiciliari il titolare di uno studio di consulenza finanziaria di Pescara indagato per truffa aggravata le indagini eseguite hanno fatto emergere una consistente ed articolata truffa nei confronti di centinaia di persone di Marche Molise Lazio Toscana Campania Calabria Puglia Piemonte oltre a Lombardia e Veneto quasi tutti titolari di attività commerciali in stato di forte difficoltà finanziaria che si erano rivolti allo studio di consulenza al fine di ottenere finanziamenti esteri a fondo perduto per carpire la fiducia dei clienti la professionista con l'aiuto di altri soggetti aveva formato un'articolata struttura di facciata tanto da apparire come amministratrice di una solida ed affidabile società di intermediazione finanziaria capace di gestire rapporti con organismi creditizi esteri una volta agganciati gli ignari clienti faceva sottoscrivere contratti redatti in lingua inglese con fantomatici istituti esteri con condizioni contrattuali vantaggiose poi chiedeva il versamento di acconti fino al 4% dell'importo del finanziamento promesso dagli accertamenti bancari e dalle analisi dei flussi finanziari le fiamme gialle hanno ricostruito truffe ai danni di 142 imprenditori per un totale di finanziamenti esteri promessi per oltre 300 milioni di euro da cui la professionista avrebbe ricavato un profitto di circa 330 mila euro questo è il servizio su questa vicenda di cronaca noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 studio seconda parte di mattino 6 proseguiamo con la lettura delle pagine della cronaca di Pescara dal quotidiano il centro ancora cronaca in questo caso furto di identità tra i malati per la visita al pronto soccorso un giovane si fa passare per un uomo incrociato in sala d'attesa che aveva lasciato i suoi documenti poi salta la fila ed esce dal reparto con il foglio di dimissioni dello sconosciuto denunciato dalla polizia e poi due pescaresi condannati a sei anni dal tribunale di Lanciano la coppia riconosciuta colpevole della rapina al tema Policenter proseguiamo ancora cronaca si lanciano dal balcone dopo il furto in casa i carabinieri scoprono due ladri in via Regina Margherita li mettono in fuga uno è stato arrestato a poca distanza la segnalazione è partita da un vicino e poi denunciata una donna opere d'arte rubate recuperati altri due mobili ricorderete proprio nella giornata dell'altro ieri l'operazione della squadra mobile della questura di Pescara che aveva recuperato a Sulmona opere d'arte per quasi un milione di euro che erano state rubate il 23 gennaio scorso da un antiquario pescarese e ieri sono stati recuperati a Roma altri due pezzi vedete questi due mobili antichi valore 150 mila euro ancora cronaca da Pescara forum dell'acqua bussi un disastro senza fine abbiamo visto il servizio di Alfredo Primante poi applicato il primo giubbino salvavita che blocca l'aritmia il defibrillatore che si indossa scelto dallo staff del professor Paloscia per un 64enne di Guardia Grele colpito da un infarto e poi lavoro la crisi vista dagli studenti all'aurum l'incontro con i ragazzi dell'istituto tecnico commerciale di Montesilvano e con gli interinali di Attiva andiamo ancora avanti sempre Pescara Iron Man dirottato a sud per paura del mare inquinato la prova di nuoto dell'atteso appuntamento sportivo del 12 giugno si svolgerà davanti al teatro d'annunzio e poi Acli eletti nuovi consiglieri nel congresso provinciale siamo alla pagina di Montesilvano del centro trasferimento in Viadda rinviato a settembre per gli istituti comprensivi Villa Verrocchio e Troiano Delfico e poi elementare Fanni di Blasio ingresso vietato alle mamme arrivano i vigili urbani in basso poi sempre per quanto riguarda Montesilvano Madonna della Neve ecco i fondi autorizzati 121 mila euro per i lavori di sistemazione della Chiesa e poi scrutatori scelti tra chi ha bisogno appello del consigliere Tocco si faccia indietro chi ha già un lavoro scrutatori per il referendum del 17 aprile proseguiamo siamo ancora alle pagine di Pescara e provincia morto dopo la trasfusione la ASL dice procedure corrette l'operaio di 49 anni di spoltore deceduto dopo la diagnosi di anemia ancora Montesilvano tasse più care antiprofughi sell contro la proposta del consigliere Aliano e poi spoltore centroanziani i nomi del nuovo comitato a Montesilvano festival dell'umorismo al McDonald infine sempre a Montesilvano torna la via Crucis in dialetto per le strade cittadine figuranti attori affiancati anche da due ori siamo alla pagina di Francavilla sempre dell'area metropolitana di Pescara collettore riverasco ecco i fondi Francavilla la regione finanzia l'ultimo tratto delle opere sul lungomare nord attese dal 2000 e sempre a Francavilla ponte e pista ciclabile con l'iniziativa a piedi sicuri in basso San Giovanni Teatino animali imbalsamati nel museo mai aperto la procura di Chieti indaga due ex dirigenti del comune di San Giovanni Teatino per abuso d'ufficio proseguiamo siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara in apertura la marcia dei lavoratori della Brioni in 700 a Roma Brioni prepara il nuovo piano industriale il confronto al Ministero punta sul nodo dei 400 esuberi e poi in basso il ricordo del nostro collega Antonio Reganati ieri ci sono stati i funerali l'ultimo saluto al nostro collega tra l'altro collaboratore di TV6 state vedendo le immagini proprio del funerale che si è tenuto ieri pomeriggio nella chiesa di San Pietro a Loreto a Prutino il commosso addio di giornalisti del mondo sportivo proprio ad Antonio Reganati tantissima gente molti sono rimasti fuori proprio per tributare l'ultimo saluto al nostro collega è stato un ultimo saluto commosso e partecipato quello che la città di Loreto a Prutino ha riservato ad Antonio Reganati il nostro collega di 55 anni che era scomparso a seguito di un malore improvviso lunedì sera intorno alle 23 e 30 presente tra l'altro ieri i funerari addolorato ma orgoglioso di aver avuto al suo fianco un grande amico e collega anche il nostro collaboratore Gaetano Terio operatore video con il quale Antonio Reganati ha condiviso sin dal 2003 ad oggi il progetto di Bestina News tanti anche i volti noti dello sport pescarese e non solo ieri a Loreto per l'ultimo saluto ad Antonio Reganati tra l'altro presente anche il presidente del Pescara Calcio a 5 Danilo Iannascoli nonché consigliere della Pescara Calcio andiamo avanti siamo alla pagina di Teramo del quotidiano il centro Teramo basket fallito per un debito di 2 milioni il giudice ha accolto l'istanza di Equitalia per i mancati pagamenti all'errario Silvani nominato curatore a luglio l'adunanza di tutti i creditori dell'ex società e poi Torricella frazioni senza segnale team l'azienda provvede in basso paziente morto assolti due medici erano stati denunciati dai familiari tra gli imputati anche l'ex vice sindaco di Silvi e poi contro guerra anziano stroncato da malore alla guida dell'auto siamo alle pagine di Chieti del quotidiano il centro il giornalista ucciso Simone la procura ha bloccato i funerali muore a 54 anni un anno dopo il pestaggio Simone Daita la mobile della questura di Chieti sequestra le carte cliniche di Daita Villapini Pescara e Popoli e poi in basso vedete sono pochi 4 anni per chi spaccia cocaina il giudice dice no al patteggiamento chiesto da un 68enne fermato a Francavilla con 2 kg di droga e poi ancora un risvolto per quanto riguarda la vicenda della morte di Simone Daita ecco la confessione dell'indagato l'ho colpito con un pugno Donofrio 24 anni di Chieti così disse al PM Falasca ma aggiunse non potevo fare altro che difendermi andiamo avanti siamo alla pagina alla pagina le pagine dell'Aquila sempre dal centro comuni del cratere ecco i tempi della ricostruzione un report dell'ufficio speciale indica nel 2025 la chiusura di tutti i cantieri una stima che potrebbe però subire modifiche a causa di fattori di incertezza vediamo il servizio che è stato realizzato dalla nostra redazione dell'Aquila La Corte dei Conti ha registrato il contratto di Paolo Esposito coordinatore dell'ufficio speciale del cratere USRC una notizia arrivata proprio mentre i sindaci erano in riunione a fossa e meritavano di riconsegnare la fascia dopo due mesi di attesa e la ricostruzione ferma in 56 comuni del cratere si avvia dunque la ripresa dei processi di ricostruzione dopo questo stop forzato Esposito quindi potrà subito mettersi al lavoro sbloccando atti e mandati di pagamento arretrati i sindaci nel corso della riunione a fossa hanno parlato anche della ricostruzione nei loro comuni a cominciare dalla scarsità di organico negli uffici questo è il problema più grande la situazione nel mio comune diciamo noi abbiamo ancora cassa per pagare i stati d'avanzamento però fra un po' questa cassa andrà ad esaurirsi noi richiederemo il rimpinguamento ma se Paolo Esposito non rientrano nei suoi poteri i soldi non ci verranno dati la ricostruzione ovviamente subirà uno stop questo è un problema che esiste da sempre quando si parla di città di territorio se ne parla sempre nei libri per fare politica così parlata ma poi all'atto pratico non se ne vede mai una conseguenza fattiva operativa noi sindaci questo lo subiamo lo subiamo più di quanto subisce l'Aquila un territorio che non riesce a svilupparsi noi subiamo le conseguenze maggiori ma anche l'Aquila subisce conseguenze in mancanza di un territorio che non riesce a organizzarsi nei suoi confronti quindi è un'occasione questa qua del terremoto che se non stiamo attenti è un'occasione che perdiamo è unica e ripetibile per queste cose viabilità viabilità l'Aquila pescara ad Alfonso chiama il ministro del Rio e poi cantieri fermi niente cassa integrazione adunata alpini si parla dell'adunata alpini di maggio 2015 e poi manca la giunta comunale salta il festival del folklore siamo a Sulmona in questo caso la manifestazione avrebbe portato in città 5.000 persone a Scanno riaperta la biblioteca comunale nominati due responsabili sempre a Sulmona mostra evento con i libri di Ovidio a fondopagina case parcheggio sempre nella città ovidiana emergenza senza fine sono 40 le domande arrivate in comune a fronte di soli 4 alloggi che risultano disponibili siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere il messaggero e poi il quotidiano la città di Teramo partiamo dal messaggero prestiti truffa broker arrestata dalla guardia di finanza abbiamo visto il servizio qualche minuto fa del nostro Alfredo Primante poi in basso recuperati mobili antichi nuovi sviluppi sui tesori rubati la squadra mobile ha ritrovato cassettiera e comode il 700 valore 150 mila euro denunciata per ricettazione una donna romena mobili ritrovati a Roma via dei Gasperi lavori antiallagamenti Alessandrini e D'Alfonso annunciano l'arrivo delle ruspe per il collettore e poi più in basso Montesilvano stop a nuovo cemento se ne è parlato in consiglio comunale ancora cronaca da Pescara e provincia bussi l'inquinamento non si ferma dati shock nella relazione dell'arta diffusa dal forum dell'acqua e poi in 700 dall'area vestina ieri a Roma per difendere il lavoro al Brioni siamo alla cronaca dell'Aquila città romana un'altra conferma le indicazioni vengono da nuovi scavi molto importanti nei pressi di Porta Poggio Santa Maria vicino alla stazione politica slitta il consiglio comunale sul master plan poi sabato e domenica sette siti aperti per le giornate di primavera del FAI e poi in basso la ricostruzione quindicesimo elenco altri 10 milioni proseguiamo ancora l'Aquila l'imprenditore Biasini nello spaccio di droga voluto dall'Andrangheta l'accusa e della DDA di Reggio Calabria che ha scoperchiato un intreccio tra traffici illeciti e lavori per la ricostruzione poi altre notizie dal capoluogo Sanità Liris Tordera Salvi Ospedale Facoltà per Banca Etruria Vertice con Zanetti dopo il sitin di protesta andato in scena proprio sotto la sede del Ministero e poi Bazzano nuovo Megastore 40 gli assunti Cronaca di Avezzano Sulmona diventa pubblica la proprietà di Torlonia siamo in questo caso a Sulmona alcune delle oltre 60 preziose opere d'arte passano al Ministero con la partecipazione della Banca del Fucino perdone siamo ad Avezzano esporre solo alcuni pezzi più pregiati ad Avezzano potrebbe contribuire a far nascere uno dei musei più importanti da Abruzzo vedete nella foto nel tondo il Ministro della Cultura Franceschini Sulmona rescisso il contratto città senza manutenzione e poi in autostrada un altro bus della tua impanne disagi per i pendolari ancora Sulmona un nuovo progetto e tempi lunghi per l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e poi ricovero abusivo per Pitbull scatta l'esposto infine ad Avezzano periferia sud addio ai Pozzineri ecco le fogne siamo a Chieti Chieti l'orgoglio dimenticato è vero siamo sotto un tir il grido d'allarme di Di Vincenzo ha scatenato un interessante dibattito Ceri dice serve un movimento di opinione Di Matteo bisogna lavorare sulla città alta cittadella dello sport c'è un progetto che riguarda il Ciapi e poi ordinata l'autopsia per far luce sulla morte di Simone Daita ne abbiamo parlato anche leggendo gli articoli dal centro poi treguarmata tra comune società di atletica parliamo dell'utilizzo dello stadio Angelini atleti di nuovo in pista proprio all'Angelini ma un accordo definitivo con i club sulle nuove tariffe è ancora da trovare siamo alla pagina di Lanciano Vastortona area terminal il nodo supermercato questa mattina si riunisce il consiglio comunale per decidere intanto ieri è stato presentato il nuovo fascicolo dei privati e poi ancora Lanciano in questo caso 11 telecamere per la sicurezza in centro e sempre dalla città frentana rapina al globo due pescaresi condannati a 5 anni infine Ortona cimitero manca la fermata del bus siamo a cronaca la cronaca di Teramo e Teramo provincia Teramo mare verso il pedaggio a pagamento l'ANAS non avrebbe i fondi per completare il tratto dell'incompiuta e poi teatro romano nuovo incarico alla ditta AIG cronaca perquisizioni antidroga della polizia in classe il blitz dunque degli agenti della questura e poi Teramo basket abbiamo visto anche in precedenza dichiarato il fallimento tutti in bici infine ambiente per combattere lo smog il comune di Teramo organizza un green days per favorire la mobilità alternativa in città siamo alla pagina che riguarda Giulianova e gli altri centri della provincia di Teramo partiamo da Giulianova assalto all'ufficio sogget denunce rissa e coda utenti infuriati appiccicati nella piccola sede violazione della privacy la ciafardoni chiama i carabinieri furti e rapine in diminuzione grimi soddisfatto atri ospedale si parla di una vicenda di qualche tempo fa morì per infarto assolti due medici e poi il consigliere moroso e ignorante rischia di uscire questo articolo che riguarda Roseto degli Abruzzi ancora Roseto arena quattro palme avanti con la smart city ieri vi abbiamo proposto un servizio nel nostro telegiornale a tal proposito infine alba adriatica giubbotto antiproiettile per i vigili urbani siamo alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine del quotidiano la città di Teramo lo faremo tra qualche istante e poi parleremo proprio di sport con parlando anche e soprattutto del Pescara che si prepara alla trasferta di domenica a Crotone prima pagina della città il Teramo basket è fallito questo è il titolo principale il giudice fallimentare ha accolto le istanze di Equitalia e dei procuratori sportivi vediamo le pagine interne Abruzzo i veleni di bus inquinano ancora il forum dell'acqua si tratta di un disastro ambientale dice ma anche politico cronaca falsi finanziamenti così il consulente truffava i clienti già pieni di debiti in basso soccorso alpino affara San Martino siglato il protocollo d'intesa proseguiamo Teramo basket la storia gloriosa finisce con un fallimento il giudice Giovanni Cirillo accoglie le istanze presentate da Equitalia e dai procuratori sportivi mercato in crisi siamo a Teramo Tancredi non vuole trattare sui furgoni in centro l'assessore al commercio ribadisce meglio valutare uno spostamento del mercato piuttosto che cedere alla richiesta spazi vuoti Camerino studia come riutilizzare 60 studenti di architettura a spasso tra stadio comunale ospedaletto mercato coperto e lungo fiume Tordino proseguiamo Disabili in tram e il comune che sta indietro ballone in commissione adeguato l'80% del parco mezzi Staur il problema è nelle fermate rialzate e intanto l'abruzzese Simmi Petaccia fa scuola in tutta Italia parlando di accessibilità e turismo e poi nuove energie in azione nel centro-destra siamo la pagina politica l'associazione si occuperà di mobilità sostenibile ma registra subito la convergenza di Gattiani e diciamo esponenti politici che si rifanno a Di Dalmazio e poi nasce il circolo politico comunista intitolato a Sandro Santa Croce sabato ci sarà l'inaugurazione prevenzione antidroga all'istituto di Poppa controllo di polizia con le unità cinofile all'ingresso degli studenti la preside ringrazia la questura Montori Alvomano inseguito per un furto di borsa al supermercato poi cronaca da Teramo spaccio di fumo in centro storico ventenne in manette porte aperte di notte ma nessun furto al braga mistero sull'effrazione in piazza verga di l'istituto indaga e rassicura su beni archivi custoditi all'interno andiamo andiamo ancora avanti siamo alle pagine della provincia di Teramo non sappiamo ancora dove andremo a lavorare l'allarme lanciato da Mauro Di Pietro dipendente della provincia in servizio alla biblioteca Delfico e poi si parla di telecomunicazioni di servizio a Torricella team pronta ad installare un'altra antenna Campli sulle cimitero l'assessore Agostinelli smentisce il sindaco quaresimale proseguiamo Val Vibrata siamo a Martinsicuro la ciclo pedonale un gran pasticcio il PD di Martinsicuro attacca Camaioni e convoca un'assemblea pubblica e poi Civitella Casa Pound pronta a scendere in piazza contro il centro migranti Sant'Egidio alla Vibrata la provincia deve pensare anche alla viabilità secondaria infine alba adriatica i sindaci della costa dichiarano guerra ai Vucumpra Giuliano Vamociano a processo per usura e distorsione siamo a Giulianova rivenditore d'auto Giuliese vittima di una coppia di imprenditori casertani ancora Giulianova caos alla Soget la Ciafardoni va dai carabinieri abbiamo letto quest'articolo anche dal messaggero poi Roseto Pineto Atri e Silvi il centro di Roseto risorgerà con il project il sindaco Pavone e la società dimensione solare presentano la proposta di riqualificazione privata e poi in basso i carabinieri portano il sorriso tra i ragazzi di dimensione volontario il comune ha distrutto la spiaggia del Fratino siamo ancora a Roseto questa la denuncia che arriva l'esposto con il WWF che annuncia battaglia e prepara un esposto da presentare alla magistratura Silvi lavori al passaggio a livello trovata l'alternativa per i mezzi di soccorso e poi cronaca giudiziaria Enrico Marini assolto per il decesso al pronto soccorso andiamo ancora avanti economia valvibrata area di crisi oggi la firma dell'accordo arriviamo alla pagina dello sport che riguarda il Teramo in questo caso Amadio il centrocampista della formazione bianco-rossa dice mi aspettavo una stagione diversa il regista del Teramo con un andamento diverso soprattutto fuori casa ce la saremmo giocata e noi con lo sport andiamo al centro e al messaggero partiamo dal centro per andare a vedere le cronache che riguardano le nostre formazioni Pescara Memushay a Crotone vedrete il vero Pescara il centrocampista dice l'Albania mi piacerebbe giocare i playoff ma noi sul momento che sta attraversando la formazione bianca-azzurra abbiamo ascoltato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani quella di domenica potrebbe essere la partita giusta per la riscossa per il riscatto del Pescara sì un riscatto dal punto di vista del risultato come diceva qualche tuo collega perché per me il Pescara non è morto nel modo più assoluto anzi ha dato segni di grande vitalità in queste partite purtroppo non portando a casa quello che in molte occasioni ha meritato perché se sabato all'Adriatico c'è una squadra che ha fatto tutto per vincere la partita quello sicuramente non era chi l'ha vinta ma il Pescara purtroppo in questo momento la palla va sul palo e va fuori il calcio è anche questo e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo non abbatterci in questi momenti non esaltarci in altri ma essere sempre con la barra dritta guardando un obiettivo che noi abbiamo in mente e cercheremo di arrivarci veramente con il coltello tra i denti a Crotone ci saranno ritorni importanti rientri in difesa a proposito di difesa da oggi è ufficiale Diamutene il nuovo giocatore del Pescara sì Diamutene si era aggregato a noi per allenarsi con noi il mister ha ritenuto che è un giocatore che fisicamente sta abbastanza bene è un giocatore di esperienza ci si è aggiunto anche il fatto che Coda purtroppo ha avuto quell'infortunio sabato e quindi abbiamo deciso di tesserarlo è un giocatore che è già stato a Pescara di grande esperienza spero che ci possa dare una mano anche lui questo per quanto concerne il Pescara restiamo alla sfida di Domenica Crotone anche la sfida dei fratelli Zampano uno nel Pescara uno nella formazione pitagorica e poi Mandragora rientra in gruppo il centrocampista potrebbe giocare in difesa al centro al fianco di Fornasier Lanciano Marilungo battere il Cesena ci vuole la partita perfetta Speranza lancia il Teramo sfondare il bunker dell'Arezzo dice il difensore poi Aquila Scotti sprona la formazione rosso-blu con la corazzata Pisa motivati al massimo Giulianova salta l'allenamento niente stadio né campo privato caos senza fine in società di sguidi nelle comunicazioni con il custode del Fadini e a case di Trento il vicepresidente D'Antonio ha informato il tecnico Gelsi che non saranno pagati stipendi e vertenze poi Avezzano Calcio tornano venditti e tabacco Felli è ancora out infine il moto mondiale parliamo di Iannone il corridore abruzzese voglio vincere la prima gara con i grandi poi basket McEnergy vuole restare fra le prime Roseto domenica c'è Loiesi gara importante e chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero Memushai rialza il Pescara come sempre troppe chiacchiere quando mancano i risultati è solo un periodo sfortunato ma ieri è stata anche la giornata dell'inaugurazione del club bianca-azzurro Daniele Sebastiani vediamo il servizio Francesco Del Zoppo presidente del club Daniele Sebastiani socio fondatore come è nata Francesco l'idea di intitolare il club al presidente Sebastiani e il club ci è venuto spontaneo a Daniele perché Daniele in questi anni è riuscito a fare delle cose straordinarie dal 2009 quando la società era fallita e oggi essere qui e parlare di playoff con una squadra giovanissima che sta tentando di vincere il campionato per noi era una cosa doverosa fare al presidente questo regalo William dal club Giovanni Galeone al club Daniele Sebastiani sono passati tanti anni dobbiamo tutti constatare che Daniele Sebastiani è ancora qui a dirigere un club che praticamente ha ottenuto anche dei buoni risultati e credo che sia doveroso un riconoscimento a questo personaggio che praticamente ha la capacità anche di gestire una squadra di calcio una società di calcio che praticamente ha grossi problemi mai un punto di penalizzazione mai diciamo uno stipendio arretrato quindi credo che sia una società che tutti additano come una delle migliori società nel mondo del calcio di serie B e quindi credo che questo riconoscimento sia doveroso Parliamo del Lanciano Marilungo Virtus Sabato serve la partita perfetta Rossoneri che affronteranno al Guido Biondi il Cesena Lega Pro di Paolo Antonio il Teramo con le grandi non sbaglia l'Aquila Mancini non capisco cosa non va nella nostra formazione poi altri sport calcio a 5 sorteggio UEFA il Pescara col Movistar serve l'impresa palla a mano Città Sant'Angelo vuole i primi punti nei playoff e poi un ultimo titolo che riguarda la palla a nuoto il tecnico azzurro Campagna ospite al Palla Palla a nuoto di Pescara siamo così giunti alla termine della nostra consueta rassegna stampa io come sempre vi ringrazio per la vostra cortese attenzione vi ricordo il prossimo appuntamento informativo della nostra giornata come sempre alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti a tutti Grazie a tutti.